La scelta di Sara e Lorenzo? La rivelazione degli amici Uomini e donne Gossip News, la tronista Sara sceglierà Lorenzo? Ecco chi lo sostiene. Per la bella tronista Sara Affifella di Cancelletto Uomini e donne è giunto il momento di tirare le somme di questo suo percorso e le ultimissime digossi privelano che ormai stiamo per avvicinarci per davvero al fatidico momento della registrazione della scelta finale che vedremo in onda su Canale 5 a metà, fine aprile. Una scelta decisamente molto attesa dal pubblico che segue la trasmissione di Maria De Filippi, dato che il percorso di Sara è stato uno dei più intensi di questa edizione. Arriva la scelta finale di Sara Uomini e donne. Ma chi sarà la scelta finale di Sara? La tronista ha già le idee chiare sul ragazzo con il quale abbandonare la trasmissione e vivere la storia d'amore fuori dallo studio di Ued? A quanto pare la risposta è sì. Le ultimissime di Gossip, infatti, rivelano che alcuni amici della bella tronista avrebbero rivelato che ad oggi ci sarebbe un preferito nel cuore di Sara che quasi sicuramente sarà la sua scelta finale. Di chi si tratta? Di Lorenzo, il corteggiatore che quest'anno ha fatto perdere la testa non solo alla bella Sara ma anche a Nilufar Haddati, latronista rivale che in un primo momento è stata corteggiata dal ragazzo che sembrava mostrare un certo interesse anche nei suoi confronti. Alla fine, però, l'interesse di Lorenzo nei confronti di Nilufar è venuto a scemare ed ecco che ha deciso di schierarsi solo dalla parte di Sara. Ebbene gli amici della Affifella si dicono convinti che al momento il corteggiatore favorito di Sara per la scelta finale a Uomini e Donne sia proprio Lorenzo, anche se al tempo stesso latronista teme che il ragazzo sia solo alla ricerca di popolarità e visibilità. Del resto già in questa edizione di Ued abbiamo visto che più vupolte la credibilità di Lorenzo è stata messa in discussione. Ecco chi sarà la scelta di Sara. In molti, infatti, hanno avuto dei dubbi sul ragazzo sostenendo che questi suoi dubbi e la sua incertezza su qualche delle due troniste scegliere si è solo dettata dal fatto che desiderasse stare al centro dell'attenzione mediatica. E forse proprio per questo motivo Sara potrebbe avere dei dubbi su Lorenzo o quantomeno potrebbe essere titubante su quello che succederà una volta che si spegneranno i riflettori di Uomini e Donne in quella che è poi la vita reale. Cosa succederà alla fine di questo percorso? Sara seguirà il suo cuore e quindi sceglierà Lorenzo oppure cambierà idea nel corso delle prossime ore? Vi aggiorneremo su tutti gli sviluppi del caso. Cancelletto Uomini e Donne Anticipazioni Cancelletto Uomini e Donne Oggi.